Per la situazione della sicurezza delle scuole nel Terramano è stato anche chiesto un suo parere. Ci racconta un po' questa vicenda, come si è svolta? Per chiarire la situazione c'è stato l'unico incontro ufficiale di cui ne siete a conoscenza con il mondo professionale afferendo alla problematica specifica in questo momento di tensione che c'è nel sociale, sul territorio, per l'evento sismo del 24. In quell'incontro il sindaco ci ha prospettato, ci ha parlato dei problemi che ci stanno in ordine temporale, in ordine economico che sono i problemi di tante amministrazioni. C'è stata da parte del mondo professionale la disponibilità ad approcciare questo tema chiaramente rispettando le norme nello specifico amministrativi che ci stanno. Poi sono andati avanti agli incontri in maniera informale per cercare di come procedere per risolvere questo aspetto e si sta lavorando in questa direzione. Mi dispiace che vanno in giro degli annunci, l'ultimo di questa mattina, attività gratis, svolte ingegneri, non è vero nulla, non è stato sottoscritto alcun documento, non può essere svolta attività gratuito perché è una responsabilità di natura professionale. Saremo disponibili ad andare incontro alle esigenze economiche perché è un problema sociale che sentiamo e da questo punto di vista siamo disponibili insieme all'altro sistema professionale. Gli ingegneri chiaramente in questa ottica sono quelli che assumono maggiore responsabilità perché sono quelli maggiormente deputati a dare risposte in tal senso ma c'è bisogno della collaborazione anche delle altre categorie personali, geometri, geologi e gli architetti. In questo quadro forse arriveremo a trovare una soluzione. Di cosa si è parlato proprio nello specifico, nell'appuntamento di ieri? E' stato un incontro informale chiesto con il dirigente e il sindaco per superare uno scoglio di natura amministrativa perché fondamentalmente poi stiamo gestendo soldi di natura pubblica, dobbiamo trovare il modo per non bypassare quelle regole pubblicistiche che noi tanto teniamo nell'ottica di dare una risposta di natura sociale a un problema importante. Perfetto, va bene.